Siamo nella centralissima via Cheiroli, a pochi minuti dal porto antico e proprio alle spalle di via Garibaldi. Oggi vi mostro un appartamento piccolino all'ultimo piano, molto grazioso, ideale per un singolo, una giovane coppia, ma soprattutto è l'ideale per un reddito d'allocazioni, vista la centralità del posto in cui ci troviamo. Andiamo a vedere. È piccolino, ma molto essenziale e comunque c'è tutto. Angolo cottura, soggiorno, camera, bagno, luminoso e la sua centralità è il punto di forza sicuramente di questo appartamentino. Se siete interessati non esitate a chiamarci, contattateci e facciamo una visita. Ciao!